dove andiamo sempre don d'andamos ragazzi quando tu apri una cesta prima di aprirla anzi devi dire che colore è se il colore giusto quello che dici prendi l'arma se no no quindi se dici rosso ti esce un'arma di avengers esatto cioè non ho capito io apre una cassa tu devi dire il colore di che pensi che sia di quella rarità dell'arma se di quel colore la prende se no no esatto ma a ogni caso solo la prima ma se dico verde fama sono effetto avevano quella c'è sempre non perché l'arma serve solo la cassa quindi la cassa quindi se esce oro e io dico viola lo prendo lo stesso va bene verde verde perfetto ed bianco posso usare lo scildone però giusto sto volando con qualcun altro mi piace buon paranzo tani verde non volevo dire blu il tattico blu santo dio rosso piango le lacrime ho letto bianco scattata bianca ragazzi la prendo io provo e prendo il colore di una cassa e al secco la prendo ma che fa se dici bianco e ti escono le granate in mezzo alle cose quindi dai cadaveri dai cadaveri non posso luttare la roba vabbè che ecco però madonna di dio che ecco verde se esce blu rosico ok verde pistola verde va bene niente ragazzi non giocano niente di buccia le prime due di trovare a scommettare una cassa perché sto senza niente la pistola mezzo colpi finiti blu vabbè tu anch'io se mi da se mi da un pop a blu ok niente l'ho rotto un altro ci sono ci sono l'altro qua ecco e la madonna da tu esci dal circo e uno sotto ricordate davanti a noi all'arco hai trovato quello beata te morto 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 io ho solo le smg verde la pistola aperte inizio game ragazzi fate un po come mi pare però no raga chat leggendario viola consigliatemi la pistola leggendaria lo dico io come si fa tu sai aspetta c'è una cassa leggendaria ma tutti dicono tutti dicono viola che dite voi raga io dico viola io dico leggendario chat mi fido di voi bravissimi ragazzi bravissima ciao ragazzi basta salutare andiamo a fetare dai ragazzi abbiamo 9 kill di squadra ma che state facendo andiamo cercando di inseguire brutale per dargli colpi di razzo a me se muoiamo verde sulla coscienza ciao no 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 marty non hai ragionato io non posso marirà ho il tattico viola marty non lo fare io non vengo fuori di mission viola non ci credo morto o no allora fratelli stai giocando con l'elicottero non siamo giocati con il lego che culo sto salendo marty sto salendo ma la via non ha visto preso vendi vendi rocco scudo è sceso sotto è morto morto un altro ho accito aug gold mi sa che è meglio per cambiare che è come fatica del cuore avanti morto un altro che è stamino al c***o colpi infatto ragazzi c***o che ho capito che ho capito non ti già arrivo che ne sta un altro ho secondato morto oro mi rende colpi oro oro vado ragazzi tutti quelli che ho ucciso tutti roba oro tutti che cos'è che mi sa che co guardami ecco di prego aspettami guarda tutto oro tutto non posso prendere nulla c'è un accesso se vuoi che c'è un rampino assicurato non siete interessa 151 no 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 non ce l'ho veramente pure te l'ho lasciato per terra giuro vieni che co bomba guarda qua per freddation ragazzi la domanda è where are the people oh I see the people I see the people tranquilla è l'ultimo è il penultimo fratelli ma chi io stai mi chiesto a tirare me di questo mi date la mano grazie mille restami checco dai resta che devo fare la challenge all'ultimo dai checco dai checco canile grazie mille checco no bruto allevate no bruto al vattene via no via 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 salverina marco lo seo lascio in sta io prendo questo troppo io prendo questo troppo certo 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 vabbè ma non è raga importante viola 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 nooo la pistola mi è uscito lo scar leggendario non lo posso prendere io ho trovato lo scaroro immaginate ragazzi facendo la sky base questo no ok no mi fate il calcolo quanto è la tempesta no no ragazzi contro la tenebush ragazzi è uscito prima per carico che l'hai riscola eh ti immagini sotto l'acqua martin? sono queste cose eh ci ho pensato e dove andrò sono qua sotto ragazzi per forza in un bush ragazzi vabbè abbiamo fatto tutto bene ma se non mi vedi che muovo no io spero che non stia facendo quello che penso io no mi si è buggato il lancio fate però oooh immaginate che questo qua sta a pantano a pantano a pantano come a pantano? si si può ancora fare leggermente io ne ho uno oh ma eccolo raga ma che c***o dite sta qua madonna tu serio? guarda che carino oddio non ci vediamo fermi no raga è carinissimo no dai ma non è mai più brutale ma non è mai più brutale ne ho mai portato il titolo mi ha portato il titolo a reptonate sempre tutto da rega questa era carinissima però le donne immagino questa era carissimo non te sai divertire prossimamente di siamo brutal sandra grazie a tutti